In tempi di farina di grillo e latte di mucca prodotto senza la mucca, la decisione è di una fabbrica della Danimarca, le aziende agricole e gli allevatori associati a CIA Arezzo non ci stanno e rispondono spalancando le porte delle loro fattorie. Sicuramente quando si parla di allevamento spesso si accendono tanti campanelli di allarme perché spesso gli allevatori sono imputati come coloro che hanno poco rispetto dell'ambiente e hanno degli indici di fattori inquinanti importanti. Allevamenti come questi invece dove si ha un basso numero di capi, dove non si alleva solo in maniera intensiva all'interno delle stalle ma si permette anche ai capi di poter stare all'aperto nei pascoli sicuramente ha un approccio, c'è un atteggiamento molto più sostenibile verso l'ambiente in cui appunto le aziende agricole risiedono. Qui siamo nel cuore del Casentino, un'azienda a conduzione familiare avviata dai genitori ai quali strada facendo si sono affiancati anche i due figli, la prima ad aderire alla iniziativa Stalle Aperte promosse da CIA Arezzo. E oltre che il lavoro è anche una passione, insomma a me soprattutto la campagna, il lavoro con i trattori e con gli animali mi è sempre piaciuto e quindi ho deciso di continuare e poi diciamo facciamo una scelta d'agricoltura sostenibile, biologica, dove non si fa una monocultura ma si utilizzano rotazioni di foraggi, cereali e leguminose in modo da ridurre al minimo le concimazioni e l'utilizzo di sostanze chimiche è proibito nel biologico e niente, penso che questo sia importante per l'agricoltura del domani. Noi siamo biologici ormai dal 92, anche prima ma dal 92 quando è uscita la legge del biologico e per noi secondo me è fondamentale il fatto di essere biologici perché garantisce sia il non inquinare il terreno sia il benessere degli animali e in più da qualche anno facciamo anche il latte fieno, abbiamo deciso di mandare i nostri animali al pascolo il più possibile, sia quelli che mungiamo che quelli che ingrassiamo per fare la carne e appunto aderendo a questo disciplinare latte fieno STG garantiamo che l'80% minimo di alimenti che mangiano i nostri animali sono fieno o erba e questo è importante perché i bovini sono ruminanti e è giusto secondo noi che mangiano principalmente vegetali. Poi la piccola parte di integrazione di cereali abbiamo deciso di produrli direttamente nella nostra azienda per anche qui non intaccare e fare un'azienda a ciclo chiuso quindi non acquistare dall'esterno a parità di animale, un animale che si alimenta convenzionalmente per dire una vacca dal latte che produce 40-50 litri alimentata convenzionalmente, la nostra alimentata biologica al latte fieno ne produce 20 al giorno quindi c'è proprio una grande differenza anche di produzione, questa per forza lo devi comunque comunicarla al consumatore perché non potresti se no realizzare, se lo vendi a poco non sarebbe sostenibile la nostra attività devi comunque arrivare direttamente a chi la mangia poi le cose.